ciao a tutti sono qui nel mio alloggio estivo ed è un alloggio piuttosto particolare non serve la mascherina particolare perché bascula un po questo è il mio letto che ho d'estate non so se si vede questo è il letto dei miei ragazzi che si chiama cabina di pompa e presento quello che è la mia grande passione è del mio alloggio estivo sono dormito dal fatto che il giorno è oggi 13 il giorno 13 febbraio non sia molto usuale diciamo dormire in un alloggio del genere la bandiera c'è sempre sventola alta le salti e cantano ed è il rumore che mi piace di più alessio sta chiedendo perché adesso ce ne andiamo dentro al mare è tutta un'altra rispettiva ciao da giorgio alessio dove sei una bellissima laguna un buon odio è detto e si va sarà questa tua pelle oh sul mare ti lucichi ho delle stelle ma se ho preso la tua mano e ti porto via dal fuoco forse perché ti voglio un po' tutta per me ma adesso balla tre me senza che il mare respira di te bene qui dalla paloma presto allora ci ricollegheremo per il varo e io manuel e la paloma che adesso è da rimessare faremo vedere come mettiamo l'antivegetativo intanto già oggi abbiamo levato le cozze e le ostiche che c'erano cucuru cucu paloma aiaiaiaiaiai cantava ciao dalla paloma e da giorgio il mare sono fortunatissimo qui con i miei ragazzi perché mi aiutano loro la ragazza è su paloma che si fa i selfie accio è messo alla prova con levigatura un centimetro e mezzo e così credevate che questa fosse la colorazione definitiva di paloma e vi sbagliavate ed ecco la beniciatura ciao 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 Cosa stai dicendo? Cosa stai facendo il test del VHF sul canale 26, come vedete danno continuamente le informazioni sul metro. Abbiamo posizionato l'antenna a poppa per avere un comodo approccio veloce all'antenna. Capitaneria di Porto di Chioggia, qui Paloma, chiedo verifica VHF, grazie. Barca Vela Paloma E l'abbiamo rifatta come se fosse nuova. La paloma è tornata in mare. Siamo in navigazione, ci siamo, il temporale arriva, ma noi siamo in navigazione alla grande. Ma noi pur di inaugurare la cara Paloma ce la rischiamo. Da piano su ogni bricola. E risponde, come deve rispondere una barca. Non pensa sul fiocco, che si va. Rocca, dove ci porta il vento? Vamos! A presto! 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 Grazie a tutti.